Proverà a regalarsi un'altra notte magica l'Avellino che questa sera allo Stadio Barbera con calcio d'inizio alle ore 21 cercherà il pass per il quarto turno eliminatorio di Coppa Italia sfidando i padroni di casa del Palermo. In casa bianco-verde Tesserra ha annunciato l'undici titolare nel corso della consueta conferenza stampa pre-partita. Tre novità rispetto alla squadra mandata in campo dal primo minuto domenica scorsa contro la Casertana battuta con il risultato finale di 3-0. Rea prenderà il posto di Ligi alle prese con un'infiammazione all'anca. Zito rileverà Schiavon. Sumare giocherà al posto di Insigne. Sarà 4-3-1-2. Sul fronte rosanero Iachini che alla vigilia non ha lesinato parole dell'oggio per i lupi ha recuperato Quaison e Brugman che sembrano destinati comunque a partire dalla panchina. Probabile l'utilizzo del 3-5-2 anche se non è da escludere che i siciliani adottino un atteggiamento tattico speculare a quello dei dirimpettai. In attacco è concreta l'eventualità che Belotti, corteggetto dal Torino, non venga utilizzato. Al suo posto è pronto il macedone Traikovski. Queste le probabili formazioni per il Palermo-Sorrentino in porta. Vitiello, González e Andelkovic in difesa. Rispoli, Iaia, Lorigoni e Ciocev con Lazzara a centrocampo. Vazquez e Belotti in attacco. L'Avellino risponderà con frattali tra i pali. Nitrianschi, Biraschi, Rea e Visconti a strutturare il pacchetto arretrato. Gavazzi, Arrini e Zito in mediana. Sumare alle spalle di Trotta e Tavano. Squalificato Castaldo, indisponibili oltre al già citato Ligi, D'Angelo e Togni. Arbitrerà l'incontro Claudio Gavillucci della sezione di Latina. Qua di Uvato, da Mauro Ranghetti della sezione di Brescia. E Sergio Vivenzi della sezione di Chiari. Qua di Uvato, da Mauro Ranghetti della sezione di Brescia.